Giustamente hanno ringraziato i member e i partner, hanno ringraziato gli sponsor, i coloro che hanno reso possibile tutto questo stasera. Io consentitevi, io voglio ringraziare loro, credo che un grande applauso lo meritino Teresa Ligiero e tutta l'altro Scott, che è un'associazione benemerita del Comitato Italiano Paralimpico e benemerita perché quello che fa quotidianamente per promuovere lo sport tra tanti bambini disabili, tanti ragazzi e ragazze, dando loro un'opportunità, è qualcosa di straordinario. Poi dopo di che il sogno è quello che magari qualcuno di questi, come la straordinaria Beppe e tanti altri nostri campioni possano coronare dei sogni di top level, magari come farà Beppe a Rio de Janeiro il prossimo anno. Però ecco, a me piace ricordare questa serata perché è la declinazione dello sport che io amo. Io vengo dalle competizioni di alto livello, ma lo sport è soprattutto questo, stare insieme, è divertimento, è educazione, è integrazione. Poi dopo c'è anche la medaglia, però vi posso assicurare che il sorriso di un bambino non riusciamo a far giocare vale più di qualsiasi medaglia. Buona serata a tutti. Grazie.